devo dire è incredibile grazie mille per essere venuto retroscena ci siamo sentiti novembre scorso praticamente ormai 8 mesi fa infatti è stato long in the making però finalmente siamo arrivati e siamo riusciti a fare questa puntata insieme e quindi vorrei partire da come è nato l'easy season 9 a fine secondo me è quello che ti ha proprio messo non dico nella mappa però ti ha fatto capire sì bella qui è un mondo tutto diverso cosa puoi raccontarci la preparazione che c'è stata eri banalmente a parigi e hai detto io adesso mi intruffo la season 9 inizialmente è iniziato un po' come gioco come scherzo quando vai in discoteca bene o male con gli amici io non bevendo volevo sempre non pagare quindi mi sembrava un po' inutile spendere quei 20 euro, quei 50 euro al tavolo quindi ho iniziato a provare come tutti fanno bene o male col timbro falso i braccietti degli amici e poi dopo ho detto ma perché non iniziare a fare diciamo a provare a fare questo a Parigi e quindi ho iniziato un po' per gioco un po' per scherzo a imbucarmi ai concerti il primo concerto è stato il primo giorno della fashion week di O7o Shake ormai pupilla di canie e mi sono vestito da sicurezza mi sono messo i pantaloni arancioni proprio come i classici da netturbino e sono andato là con un pass falso dello staff e facendo finta di essere un lavoratore mi hanno fatto entrare nel mio primo vlog sul canale e poi dopo dall'inizio dalla fashion week dove ho iniziato a fare diversi show diversi eventi che sono stati off-white diverse marche Rick Owens e a fine settimana che pensavo di aver già fatto abbastanza content viene fuori la notizia che ci sarebbe stato canie con la Easy Season 9 a lunedì e ho detto guarda bisogna cercare non posso perderlo no qualcosa io sono come voi immagino uno dei più grandi fan di canie della storia e quindi conosco tutto di tutto e ho detto guarda devo andarci e quindi piano piano ho iniziato a guardare sui social su twitter come cioè dove fosse l'evento perché era abbastanza privato 50 persone quindi la location generalmente non è pubblica dipende dagli eventi a Milano per esempio Fashion Week ci sono le location che sono sul calendario a Parigi invece devi conoscere magari i fotografi oppure piano piano escono però la cosa della Season 9 era che veramente era sconosciuta non la sapeva nessuno quindi io un weekend il weekend prima quindi sabato e domenica ho iniziato a dire a tutte le persone che incontravo alla Fashion Week oh ma sapete che c'era Easy Season 9 per far finta di conoscere qualcosa magari per trovare qualcuno che effettivamente aveva le notizie e ho trovato un modello proprio a casissimo sulla metro e praticamente praticamente gli ho detto ma sai che c'è la Season 9 è falsissima guarda che io ho fatto il casting per l'evento e mi ha dato l'indirizzo dove ha fatto il casting tipo la domenica però poi non l'hanno preso e quindi lui non sapeva l'indirizzo allora io lunedì sapevo dove era il casting però non sapevo effettivamente l'indirizzo vero e proprio cosa ho fatto? ho continuato ad andare su Twitter così ho trovato un video a caso di un personaggio che era parte del coro perché sai che Cagno aveva i bambini che cantavano delle donda doves e gli ho scritto un messaggio su Instagram e gli ho detto guarda lavoro anche io all'evento e non mi è andato però l'indirizzo perché non capisco dove sia e lui mi fa guarda c'è un po' di casino nella production è tutto molto all'ultimo però se mi scrivi alle 5 di lunedì quindi dello stesso giorno ti do l'indirizzo quindi io sapevo che bene o male era uscita la news che era vicino all'arco del trionfo prendo la bicicletta parto tipo le 3 e continuo a cercare la location con la bicicletta aspettando che questo qua mi mandi gli indirizzo questo è un hustling vero sì no veramente io poi tutto sudato mi ho vestito con la roba di Cagno è proprio il suo match quindi comunque avevo un po' di il mio pass farso perché sapevo che il pass era uscito per il guest e quindi ho fatto una stampa per esempio ho stampato il pass uguale ed entico che era su Twitter l'ho messo dentro un cartellino e poi alle 5 questo qua tipo anche a realtà alle 5 e mezza mi scrive l'indirizzo e mi fa qua io prendo la bicicletta tra 5 minuti arrivo lì davanti col mio pass farso vado a donare delle guardie lo guardano mi fanno entrare Gesù Cristo e poi dopo in quel momento è uscito dal taxi Naomi Campbell col suo team e praticamente io non sapevo cosa fare ero dentro non sapevo dove andare perché era tipo un ex Max Marr un palazzo a tre piani e quindi ho seguito lei e sono finito nel suo camerino e ho detto cazzo dove sta andando cosa succede mi ha iniziato a guardare e mi ha iniziato a guardare e mi ha chiesto qua io ho la mia telecamerina nascosta quindi tu sempre hai quella telecamera sì sì io avevo una telecamera che era VHS molto vecchia adesso principalmente faccio i video con l'iPhone infatti è più difficile perché con l'iPhone si capisce che fa il film con quella me la nascondevo in modo tale che non sembrasse facesse un film però la qualità era abbastanza bassa e quindi dopo appena sono entrato invece sono andato invece cioè sono andato nel suo camerino poi sono ho continuato e ho iniziato sono due ore prima ancora dell'inizio dell'evento e c'erano il coro con il ragazzo che avevo scritto che stavano provando quindi lui chiaramente non mi ha riconosciuto perché io dovevo lavorare lì dovevo fare finta di lavorare e c'erano il pass con scritto guest quindi ero proprio ero proprio perfetto e però mi sono messo a praticamente andare in giro perché ero il primo degli invitati che non era invitato all'evento perché poi è iniziato il ritardissimo e quindi io sempre ma perché sai io proprio mentre ero lì ho visto che l'evento è proprio fatto all'ultimo cioè come dire l'organizzazione di Kanye è fatta nel modo tale che lui ha un'idea e poi dopo dice alla gente io voglio questo però non ci sono magari anche le tempistiche per farlo ma infatti fa incazzare che tu dici boh questi grossi personaggi sono organizzati no fanno tutto vecchio a minchia no ma è veramente è fatto proprio amatoriale quasi poi le persone che lavorano sono persone magari che sono comunque cioè la pagate sono bravissime nel loro lavoro ma il problema è che non hanno magari le tempistiche c'è anche con Donda e l'uscita che faceva cioè lui ha dormito dentro allo stadio e in un letto lì e poi dopo era tutto fatto all'ultimo e la gente pensa che sia tutto premeditato per pensare che effettivamente lui vuole che la no in realtà è tutto fatto così però poi lui ha un tale potere c'è un'influenza tale che può fare veramente quel cazzo che gli pare la gente lo segue però comunque la season 9 era anche vestiti durante la runaway li vedevi che erano mezzi rotti io vedevo le scarpe della gente che erano tipo magari otto volte la loro size poi lui quello che faceva durante la season 9 era che i vestiti non avevano cuciture e quindi magari vedevi dei modelli che provavano il vestito e poi si rompevano a parte quindi dovevano sul momento cercare in modo di fare di patch it up tipo di aggiustarla e perché era non era bassa qualità ma era proprio fatto all'ultimo quasi tanto che io facevo quel cavolo che mi pareva andavo all'ultimo piano dove c'era il make up poi gli facevo i complimenti dicevo bellissimo grandi ragazzi gli hai pavoli gli hai pavoli gli hai pavoli gli dicevo in inglese yeah this show wouldn't be like this without you guys you're doing an amazing job e loro tipo erano super proud perché dicevano mica facendo i complimenti perché capiscono che siamo veramente un po' stupagate però e poi dopo io ho continuato a girare fino a un certo punto in cui c'era la gente in cui doveva andare nei propri posti c'erano i posti segnati per lo show e in quel momento io non sapevo dove andare e quindi mi sono seduto praticamente di fianco alle casse dello show cioè per esempio c'erano delle serie stranissime e poi delle casse ok ed ero lì ed ero seduto di fianco a uno dei suoi manager immagino però non sapevo al tempo che erano dei suoi manager e dopo gli ho parlato e a un certo punto esce fuori Kanye dal backstage e praticamente lo show immagino c'è che aura che ha letteralmente lo show era fatto a cerchi praticamente quindi i modelli andavano sulla escalere come si chiama scale mobile esatto e poi andavano da un piano all'altro e praticamente Kanye era il piano base è uscito e si è messo a parlare su classico rant di 5 minuti dove spiega tipo dove diceva alla fine del rant dice praticamente Bernard Arnault New Drake e Bernard Arnault è il capo di LVM e praticamente dopo quando è iniziato a partire di test ha detto che Bernard Arnault ha ammazzato Virgil che quindi praticamente è stato Louis Vuitton che gli ha dato non gli ha dato il cancro però comunque con tutto lo stress e quindi lui praticamente è andata contro poi è iniziato ad andare contro tutti gli ebrei quelle cose lì alla fine era l'inizio di tutto quanto e quindi ha avuto questo rant iniziale e io in quel momento lì non lo stavo neanche ascoltando io facevo il video ma intanto piangevo e lui diceva no cazzo cioè sono con Cagnie aspetta ti avvicino un po' si si il microfono così va meglio si così perfetto vai sono proprio in bocca ok così così è già più vicino ok no no e spero che si è sentito fino ad adesso no no sentivo sentivo e quindi l'evento è iniziato e io ero proprio lì super cioè stavo quasi piangendo dici cavolo Cagnie è il tuo idolo sei in una situazione più esclusiva di quella non c'è se poi quello che è successo ancora dopo è ancora è ancora peggio però comunque inizia lo show e tutto il ritardo chiaramente doveva iniziare 5 e mezza 6 e mezza è iniziato tipo alle 8 e mezza poi tutto il ritardo intanto c'hai Anna Wintour che è tipo andata via ancora dall'inizio dello show Jaden Smith che è andato via appena visto la maglietta di Kanye West che ha scritto White Lives Matter io ho dabbato Jaden Smith prima dello show e praticamente ma come è alto basso ma sì cioè in realtà lui era vestito tipo incappucciato se vedi le foto e aveva tipo questo questa jacket che parete che faceva caldissimo non so come facesse e io ho detto hey Jaden lo avevo mezzo beccato e in realtà super chill cioè super down to earth però cioè alla fine è una persona normale come noi però appena visto io ero dall'altra parte davanti a lui appena vista la maglietta White Lives Matter ha abbandonato poi ho fatto il suo tweet che era mezzo viral è andato in quel periodo ma prima dello show ho incontrato anche altre celebrità c'era Riccardo Tisci Caroline Daur che è un'influencer tedesca che adesso ogni volta la vedo ovunque solo che lei non sa che mi imbuco cioè lei pensa che io effettivamente sia invitato ma l'ho vista tipo all'evento privato di Jaycee al concerto di LVMA c'era lì e che quello c'è proprio il colpio esclusivo secondo me della Easy Season 9 e quindi lei pensa che effettivamente io sia un personaggio cioè mi ritagga anche le storie perché pensa che io effettivamente sia però non mi ha visto mai video spero e comunque quindi c'erano le celebrità poi l'evento è iniziato e hanno dato via le shades gli glasses io ne ho presi quattro e apposta avevo venduto uno uno giveaway tutte queste cose io avevo anche i saponi c'erano i saponi per i guest mi hanno preso tipo tra quattro nella borsetta ho rubato tutto il possibile ho preso anche lo stand player c'è la casa ho scritto ISO Season 9 dietro merda perché poi le lasciavano per terra cioè quando sei un guest così anche questa maglietta di Off-White quando lo show finisce i guest non ne frega perché magari sono miliardari o comunque sono gente famosa e lasciano tutti i pezzi dello show che li regalano e quindi poi c'è gente come me che fa la scavenge hunt e li prendono tutti intanto poi li lasciano lì o li danno e quindi la roba Season 9 poi infatti andava alcune cose le ho vendute a dei prezzi c'è dei saponi a quattrocento euro ho venduto dei saponi tre saponi poi profumatissimi buoni però sono dei saponi però poi alla fine vende la storia cioè dici sei quello imbucato l'ho presa esatto fa quello tanto e quindi alla fine delle storie è stato così c'è stato questo iniziare questo scavenge hunt per tutti gli eventi poi ho iniziato c'è stato la Season 9 io ero vicino anche a dei critici che parlavano c'erano dei tipo delle reviewers che scrivevano sul foglio com'era la Season 9 quello che c'era e tutti ero incontro cioè letteralmente io personalmente ero estasiato quindi per me poteva anche uscire nudo sì esatto io ero figata cioè io penso non ero neanche incattato per Wildlife Mariner non ero neanche accorto che c'era la maglietta cioè sei in una situazione così incredibile che non ti viene neanche brava di pensare male ecco quindi arriva il punto e finisce e poi dopo lui scende e era già sotto guarda la Season 9 fa la canzone con Sam Smith non Sam Smith c'è una canzone che ha fatto uscire con un artista non è la Sam Smith era non mi ricordo più comunque era una preview di una canzone una canzone esatto e dopo tutti sono scesi per fare interviste e tutto quanto io ero di fianco a lui col mio telefonino a fare i video e la mia prima interaction con lui è stata tipo greatest art is on the planet greatest art is on the planet tipo proprio urlato e lui si è girato tipo che cazzo è che urla e c'ero io con la mia telecamerina nel mio telefono che gli dicevo greatest art is on the planet e lui si è messo a ridere e poi dopo ha fatto un po' di interview per terra lì nel per terra e dopo a un certo punto ho visto che lui è andato nel backstage e ho cercato di seguirlo certo poi mi hanno fermato perché avevo il pass con scritto guest che aveva un bollino viola e potevi entrare solo se avevi quello dei modelli o quello giallo ok e allora cosa è successo io ho aspettato un po' ho aspettato un po' erano mai 20-30 minuti stavo per andarmene via ho detto no qua non riesco ad entrare non mi fanno entrare queste guardie qua poi a non so per quale motivo una manager che mi aveva visto entrare con Naomi Campbell nel suo backstage che all'inizio dello show mi aveva chiesto ma sai dove è Naomi? mi ha detto sì sì nel suo camerino perché mi aveva visto entrare con lei mi fa sì sì it's good it's with Naomi e io vecchio sono cioè io si farà comunque cioè e io te lo giuro libro di storia questa roba qua e io sono entrato e dentro ho trovato un modello che ho beccato a Milano in Parco Sempione tre anni fa a casissimo a giocare a calcio e lo seguivo su Instagram e lui era un modello della season 9 faceva il modello a Milano e poi dopo è stato preso la season 9 e ho detto non ci credo c'è il mio boy adesso ma voi no? sì faccio un po' di gag mentre lo saluto vedo Kanye dietro nel backstage proprio in chill e ho detto no non ci credono certo e quindi piano piano ho iniziato a vedere se potessi aggiungere proprio andarci vicino perché pensi che ci sia sicurezza questa roba e in realtà non c'era nulla c'era nessuno che diceva non mi ha detto nulla quindi sono stato vicino e ero stanco cioè dopo alle 4 di mattina alle 4 di pomeriggio che giri in bicicletta per trovare e quindi a quel punto lì dicevo adesso cosa faccio cosa faccio e c'era una sedia e io ho detto adesso qua mi siedo e praticamente mi sono seduto su una sedia di quelle che c'erano lì e nel frattempo c'era Kanye che andava in giro tra una cosa e l'altra e poi dopo ho detto adesso cosa gli parlo cioè non è che sto a fare niente e quindi mi sono detto adesso gli dico una battuta gli dico una cagata atomica e quindi gli dico hey yeah can I tell you a joke real quick posso farti una battuta molto veloce e mi fa yeah go ahead e gli ho detto who's yeah in Paris quindi che è Kanye perché adesso non è più Kanye è yeah who's yeah in Paris e gli ho detto perie che praticamente è un wordplay che lui c'aveva una canzone Mercy che dice now yeah in Paris now I'm periein e allora gli ho detto who's yeah in Paris perie e lui proprio proprio ha riso proprio di gusto e poi un ragazzo a caso che non pensavo neanche poi ho conosciuto siamo molti amici era il fotografo della season 9 ha fatto la foto con me lui che ci dobbiamo dopo che gli ho fatto il joke quindi si vede la mia faccia proprio scema che ride proprio felicissima e poi dopo si vede anche Kanye che ride che mi dà bap e poi questa foto qua la uso per tutto adesso io vorrei farmi una foto proprio della stampa appena c'ho la stampa e poi questa è stata la prima interaction io ho già lì a settimo cielo poi c'è un'adrenalina che in quel momento lì magari non apprisci cioè non sei neanche grateful di essere lì perché non capisci cosa sta succedendo poi dopo ti riguardi dici con Kanye West a fare le battute nel suo backstage del season 9 quando mai mi ricapita esatto poi dopo ho continuato e mi sono risieduto sulla sedia e poi lui si è messo con un modello che era anche lui il mio amico il modello a guardare le polaroid della stagione dell'evento e poi ci si è messo a parlare ma proprio normalmente lui aveva in quel tempo lo screenshot della giraffa sul telefono che non so se lo ricordate c'era una giraffa fatta dai suoi bambini e quindi si è messo a parlare di quello noi abbiamo iniziato a parlare tipo di quanto sia importante l'immaginazione per i bambini di quanto devono essere fuori da questo sistema di social media perché lui in quel momento odiava tiktok anche adesso con sua figlia Kim Kardashian di qua di là se non vuole che sua figlia usi tiktok sì perché alla fine ha ragione secondo me ci sono i pro e i contro però giustamente ci sono certe cose cui sei imposto certa agenda dei media che questa applicazione alla fine ci sono anche sui cartoni ci sono un po' dappertutto però di base su quel momento lì appunto lui era molto contro e poi abbiamo parlato anche di una canzone che ha fatto allo show di Macklemore quindi abbiamo parlato anche dell'album di Macklemore che aveva vinto Over Isus il Grammy se lo giuri non è che gli bruciava però tipo ha detto sì sì ha vinto quell'album lì come per far capire ma che cazzo veramente ha vinto perché poi c'erano anche dopo dieci anni ma c'erano degli altri album oltre a quello c'era Magna Carta di Grey esatto c'era Kendrick Lamar con Good Kid Mass City c'era Drake con Nothing Was The Same Kanye con Isus c'era Kendrick con Good Kid Mass City e poi c'era Macklemore esatto ha vinto Macklemore proprio il più beh comunque che poi ha venduto bene tutto però non era migliore è una roba beh comunque se il fatto è che parlavano di quello più che altro lui non ha parlato molto in quel momento lì era il modello che facciamo due risate non era molto in gag e poi dopo cioè io ho parlato con lui proprio in maniera cioè lui rideva scherzava c'è qualche video fatto dagli altri che poi ho messo perché i miei non li ho messi dove parlavo con lui perché non cioè ci stai alla fine sei anche in un momento privato non vuoi neanche proprio interromperlo e avere la telecamera davanti a lui in faccia era proprio di fianco a me sul lap e poi a un certo punto il modello va via Kanye era lì che parlava al telefono mi fa a un certo punto cioè io ero di fianco a lui mentre mangiava il pochè gli ho dato la forchetta oltretutto cioè proprio come quasi così lui mangiava il pochè gli ho detto datti la forchetta intanto io mi mangiavo gli snack così di fianco a lui e poi a un certo punto vedo una chiamata e lui mi fa yo can I take this real quick posso avere un po' di spazio e io ero lì che pensavo ma che cazzo mi chiede Kanye West di andare via cioè poteva benissimo dire sicurezza mandatelo via invece mi ha chiesto gentilmente e io gli ho detto si si no problem e poi in quel momento lì ho detto beh adesso vado a casa e in quel momento però esco e trovo uno dei suoi manager che stava cercando di impezzare una ragazza sul telefono in francese e praticamente mi dice ma can you speak french io gli ho detto oui oui allora abbiamo iniziato a parlare io praticamente scrivevo il telefono del suo manager uno dei manager gli scriveva i messaggi sul suo iphone in francese per impezzare una che aveva incontrato lì a Parigi perché tutti pensavano che fossi lì all'evento avevo questo pass guest e quindi sono stato con lui a parlare 20 minuti mi ha dato poi il numero e poi dopo io quando gli ho riscritto e lui non lavorava più per Kanye perché aveva cut ties cioè proprio l'ha finito tutto però in quel periodo lì era comunque vicino a casa cioè era uno di quelli lì e quindi gli ho conosciuto così proprio a caso ero convinto di avere qualche connection poi alla fine è successo quello che è successo è così e mentre esco e dopo 20-30 minuti vado giù dallo scivolo perché oltretutto l'ho già fatto c'erano degli scivoli mi giro e c'è Kanye allora gli ho detto beh adesso continuo la serie di cagate e ho detto al manager che era intanto con me puoi farmi il video mentre scendo dalle scale e gli ho detto sì 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 facciamolo e poi dopo io mi giro e dico yeah hop on with me on the slide e lui mi fa no you go first allora dopo io vado giù e poi si vede il video che ha fatto il manager dove io scendo cioè scendo poi c'è Kanye che mi segue e poi dopo ci sono i video che poi ho messo lui su tiktok famosissimo dove lui esce dall'evento con tutti che gli fanno yo Kanye come se fosse un dio e poi ci sono io di dietro come la guardia del corpo che intanto faccio i video con la mia telecamerina e sono finito tipo su daily mail sono finito su tutti i giornali perché c'era la foto di Kanye fuori e poi c'ero io di dietro certo e quindi c'è da quasi andare via c'è da quasi tornare a casa perché non mi facevano entrare ad avere la tipa che mi fa entrare perché mi conosceva per Naomi cioè poi dopo c'è tutte queste esperienze con il tuo idolo no cioè è una cosa che sono robe che dici fuori cioè non esiste se te la racconto se non c'ho i video uno dice infatti c'è c'è ora che una raccolta dico cioè perché poi molto spesso c'è sono cose che dici è il caso che ti dà la possibilità di farci altre cose però se sei in quella situazione lì è quasi impossibile che non succeda perché te la cerchi un po' perché un po' rischi dici beh ci provo è peggio di caso che mi dicono di no e esco e quindi dopo un po' testi fino a dove puoi arrivare e quindi arrivi fino a sedi vicino a lui però poi ci pensi anche un po' un po' scary perché immagina che avessi avuto delle brutte intenzioni sì 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 e volevo magari fare qualcosa che cioè alla fine sei di fianco a uno degli uomini più influenti del mondo e sei imbucato certo però alla fine poi dici cioè se lo fai come dico sempre in maniera rispettosa non rompi le palle allo show non rompi le palle al personaggio cioè un sacco di gente chiedono yo Kanye come take a picture e lui mi faceva però la voleva mentre andava mentre passeggiava tipo magari mentre cioè non voleva fermarsi per fare la foto la voleva mentre era in movimento per fare un'altra cosa e non glielo ho mai chiesta cioè io personalmente ero lì per fare quasi una conversazione normale sì 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 e visto che sono celebrità loro sono abituati solo a delle foto quindi sai queste interaction naturali tanto che adesso gli dico sempre che sono suo amico poi non sono suo amico però siccome se lo vedo un minimo siccome si ricorda di me ad un'ora e mezza parlare a fare delle battute secondo me poi chiaro che non posso scrivergli di yo what's up I'm the guy that snuck in and told you the joke cioè sono io il presento ma anche perché poi quando è uscito il video su youtube che l'ho editato tipo super fast ok ho tolto la parte dove facevo il pass fast dove lo printavo perché giustamente non volevo avere problemi illegali appena uscito poi potevo farlo lo stesso andava magari anche più virale perché lui dopo col fatto che ci sono stati un sacco di backlash per le altre cose che ha fatto quella roba lì andava sotto però vabbè ci ha finito tutto bene quando ho fatto il video tutto quello che facevo era virale quindi season 9 l'inizio quindi ti chiedo ma a Parigi come ci sei arrivato cioè nel senso tu sassolese esatto boom Parigi season 9 con Kanye West questo è proprio un collega a me non lo sono anch'io in realtà se solo dici così che storia hai fatto le scuole hai fatto scuole a Sassuolo allora io ho fatto ho una vita un po' ho visto che tu sei andato anche tipo in America esatto io ho fatto ho vissuto a Tannè a Torino quando ero piccolo ok per il celebrello lavoro di mio padre e poi dopo sono andato insieme a lui in Inghilterra a 12 anni per questo che ho imparato l'inglese proprio da zero ok e poi piano piano quando lui si spostava mi spostavo con lui facevamo a Modena o dove andava Sassuolo poi in realtà vi dico Modena perché la gente la conosce e poi mi spostavo con lui alla fine dopo l'anno all'estero che però l'ho fatto per già ragioni personali volevo giocare a basket e volevo studiare ok perché eri forte? cioè in realtà ho fatto anche serie C gold qua in Italia serio? poi ho vinto una C una D cioè poi ho vinto perché è arrivato il covid però avevamo vinto tutte le partite del campionato in serie di Ascandiano e quindi Ascandiano è una bella piazza sì erano forti cioè io ero un buon player poi dopo è successo che è arrivato il covid ho deciso cosa faccio continuo gli studi o provo a giocare a basket il covid un po' ha spezzato il ritmo perché ha finito il campionato sono stato a giocare a Modena che erano in gold al tempo poi adesso sono lì e hanno vinto quest'anno oltretutto e a me piaceva giocare a basket cioè io avevo il dream di diventare un giocatore sì che Kobe Michael Jordan sai quando c'hai proprio il life dei giocatori e poi dopo che è successo praticamente ho detto il basket non posso avere un futuro magari vai in serie A serie B massimo e ho detto proviamo con lo studio e dopo sono andato a Parigi e poi dopo a Parigi ho contratto a giocare a basket per l'università il primo anno ho giocato a basket ho studiato e poi il secondo ho detto adesso inizio a fare un po' di vlog un po' di avventure perché alla fine le facevo anche prima ma magari non in season 9 però magari mi bucavo la festa del cibo davanti a Torre Eiffel conoscevo uno chef sul momento quindi c'avevo già il practice un po' di cioè mi sono allenato prima di arrivare alla season 9 solo che poi non facevo mai video non facevo mai storie inizia con gli eventi tipo locali oggi andiamo all'evento del libro e poi vediamo se riesco a prendere un libro da rubarlo e quindi ci sono queste avventure che facevo prima ancora io pensavo di iniziare un Instagram account ho scritto Saint Leon Adventure perché poi il cognome è nato a Parigi perché Leon è tipo Leonardo in francese e Saint è il nome del figlio di Cagna quindi lo messo insieme e praticamente ho detto adesso proviamo le cose un po' più grandi e le faccio stile vlog perché poi quando ti vedete vlog mi sono imbucato al cinema mi sono imbucato allo stadio tira tante sì piace alla gente e allora ho poi iniziato con la fashion week però sì diciamo che il motivo per cui sono andato a Parigi è stato principalmente per lo studio poiché non vedevo una carriera che potesse proprio essere totale nel basket però adesso ancora gioco sono sempre agli schiocchi al campezzo quando sono qua in Italia un shout out agli schiocchi perché sono loro spingono loro sono sempre se io facessi un documentario sulla mia vita su questo successo non sarebbe mai bello come un documentario su tutti i personaggi degli schiocchi c'è proprio un fumetto c'hai quello matto quello perché è proprio un col sì era una storia incredibile sì ma anche noi abbiamo giocato ma poi se andate lì veramente è una cultura c'è proprio una città differente proprio gli schiocchi a parte che poi col covid loro giocavano sempre e sono finita anche sul giornale i fatti shout out perché loro facevano tutto ma erano incredibili poi ci sputta ogni volta che vado là io mi diverto la cosa che mi manca di più di Modena è avere un gruppo di ragazzi che poi ognuno è di una cultura diversa proprio c'è di tutto però hanno tutti l'amore per il basket e quindi giocando insieme cioè fai delle gag gli inside jokes infiniti poi sono nel loro gruppo io intanto a Parigi mi leggo la loro roba e se ti rimani un po' così almeno collegato alla città almeno se sei a Parigi comunque con Cagni e poi dici beh però I came from the Schioc cioè sì esatto mi vengo proprio dalla strada non lo so beh comunque fa ridere perché sono due realtà differenti che però è bello mantenere entrambi ma come ruolo cosa giocavi? come ruolo ero una sei tipo un jolly ero un puto tranne il playmaker perché il playmaker c'avevo degli handlers ma ero troppo alto però intanto mi facciano giocare anche centro però io ufficialmente ero tipo un 3-4 poi ero un gran difensore ma mancava un po' di cioè ero poco consistente al tiro quindi l'unica cosa che mi mancava se avessi avuto la stessa concentrazione che ho adesso per fare i video e fare le avventure sul tiro probabilmente se ce l'avrei fatto però sì facevo quei 10-12 punti di media in difesa ero un cane perché mi piaceva difendere mi piaceva un po' il fisico per la difesa però poi ero un giocatore tipo la Dennis Rodman poi chiaramente non ero Michael Jordan nella squadra c'era sempre quello che faceva più punti però alla fine ero una key piece poi dopo diciamo quello che facevo in G in C o in D secondo me avrei potuto fare anche in B perché alla fine difendere ero bravo i miei punti li facevo perché prendevo rimbalzi spingevo però poi dopo per proprio fare il passo di qualità devi migliorare su degli aspetti c'è proprio tutti i giorni di giocare poco da fare cioè non diventi Michael Jordan solo facendo un allenamento con il team due o tre volte a settimana e poi la partita devi proprio tutti tutti i giorni però C è già professionista sì sì ero anche avevo il remorso spese ero a Castanuovo nei Monti quindi facevo su e giù era lontano da Castanuovo poi ero comunque a fare l'università cioè dovevo studiare però poi sì allo studio io sono sempre stato un po' come nella vita cerco sempre magheggi io sono sempre stata una persona che riusciva a ricordarsi quello che faceva all'università quindi studiavo veramente poco e poi dopo in base all'esame capivo se devo studiare un po' di meno se c'erano le domande già fatte mi studiavo in memoria le domande quindi un po' i magheggi sempre nella vita l'italiano vero sì sì quello sempre però sì comunque mi sembra di capire che cioè questa tua voglia comunque di magheggiare di scancherare con le altre persone ce l'hai è una cosa naturale secondo me anche da piccolo io ho fatto avevo un canale youtube ancora prima di iniziare facevo le cover tipo mi piaceva comunque essere un po' al centro d'attenzione e quindi piano piano poi ho visto che le persone hanno un certo modo di parlare con te a seconda di come le tratti di come ti comporti e se sei effettivamente convinto di essere un certo tipo di persona un personaggio la gente effettivamente ti crede e quindi un po' alla catch me if you can di di caprio sai che si finge un dietro così ho imparato effettivamente a comportarmi in un certo modo a seconda dell'evento per far capire cosa faccio cioè quindi un po' un con artist possiamo dirlo però in maniera fatta nel senso che non ho un fine a livello economico un fine ce lo faccio proprio per divertirmi per cazzeggiare cioè letteralmente non lo faccio per soldi per fama anche perché altrimenti dopo sei mesi che lo faccio sono ancora povero quindi cioè in senso non lo faccio per questo non sono famoso lo faccio proprio per esperienze mi piace divertirmi poi la gente piace quando le racconti queste storie cioè è proprio una cosa interessante che la gente proprio vede anche come ispirazione alcuni che mi dicono you're so inspirational che cazzo faccio e alla fine faccio me stesso quindi però sì è un po' come tutto è è parte del mio sangue poi si può imparare nel senso volete imbucarmi insieme a me alla prossima andiamo insieme figo figo quindi tipo della gente che ti ha scritto per chiederti info più che altro adesso ci sono le celebrità che mi scrivono a me per dire come hai fatto c'era la canna io ho preso il mio pass e una con 200k che di follower se non conto niente però comunque per spiegare che è nel mondo lei non è riuscita a prendere la sua accreditation mi scriveva tutti i giorni mi diceva oh mi puoi aiutare e io dicevo ma che caso io e lei lavorava per Forbes lavorava per dei magazine importanti e mi ha chiesto da me perché poi siamo amici e come entrare io incredibile adesso mi chiedono a me come imbucarsi la gente che dovrebbe lavorare lì c'è una storia però sì adesso c'è un sacco di amici di persone che amici no però magari di followers normali che mi chiedono sempre oh mi dà degli inviti però c'è se guardate le mie DMs ce ne ho tipo 10 al giorno adesso non così tanti durante Fashion Week 10 request oh mi puoi imbucare però c'è come fai a scegliere uno infatti un video magari in futuro sarà I bring a fan with me porto un fan insieme a me al Fashion Week però per adesso cioè anche perché poi i video alla fine dicono quello che faccio e proprio ogni video cioè ogni situazione è a sé quindi cambia un sacco non posso dirti imbucati leggendo un nome se poi magari non c'hai una vista per leggere il nome magari non c'hai gli occhiali e quindi non riesci a leggere il nome lo sai cioè ogni cosa infatti i miei video sono per quello un po' a caso montati un po' tutto perché è tutto molto avventura ma nell'imbucarsi comunque cioè non rischi qualcosa cioè a massimo ti sbattono fuori se a massimo ti sbattono fuori ho conosciuto un ragazzo che lo faceva già da tempo e lui ormai lo conoscono e quindi lo buttano fuori e basta cioè proprio lui lo vede ogni volta che lo vedo ogni tanto lui ha un cappello da cowboy ogni volta e è cacciato fuori perché lo conoscono ormai la faccia e il massimo rischio che ho pensato di avere adesso infatti non faccio più i pass falsi perché se te metti lo stesso nome del brand quindi non so magari Dior e Dior può farti causa volendo però può farti causa sul momento perché alla fine sul video youtube io potrei aver detto di averlo fatto fin quindi sul momento sul video però se ti back sul momento lì posso fare causa perché fai il copio del brand infatti adesso i pass falsi li facevo all'inizio per scherzare ma non li faccio più perché non ha senso a livello cioè se mi prendono poi effettivamente puoi andare in casini adesso effettivamente io a volte quello che faccio più è che entro insieme a un gruppo di persone magari conosco un fotografo e dico posso entrare con te oppure c'è un gruppo che fa vedere il pass e io faccio finta di essere con loro quindi effettivamente non è che faccio una roba illegale semplicemente sei in un posto in cui non puoi essere però non è che staccavalco una transenna hai infranto sì è una cosa proprio e poi io faccio per video cioè se lo facessi come fine proprio economico per prendere delle informazioni per un magazine per vendere le foto scusami a quel punto lì avrebbe senso dire però io lo faccio proprio per video youtube e per scherzare per vedere che effettivamente se sei confident sì e poi alla fine è per te cioè non è che tipo cioè non è che devi ma poi quello che ti chiedo è da tutte le sfilate a cui hai partecipato invocandoti la più bella tipo in fine tipo di qualità ma sai che io c'ho è bella questa domanda perché non lo sapete ma io c'ho le note sul telefono dove mi tengo tipo un rating di tutto quello che faccio quindi c'ho tutta la prima fashion week che ho fatto la seconda e la terza quindi c'ho tre stelline e ho fatto 32 show invocato ma scusa a fashion week quanti show ci sono più o meno ce ne sono tanti ce ne sono tipo in realtà 200 perché poi ci sono anche quelli bassi c'è quelli che non conosci però quelli ufficiali sul calendario sono tipo 10 15 al giorno per 6 giorni quindi 70 75 però poi non faccio tutti faccio quelli che mi interessano che so che posso e poi quelli dove entro ma tu vai col fit della sfilata esatto hai sempre cioè ce l'hai già o lo compri pensando no in realtà da seconda dei vestiti che ho che non ho abbastanza poi c'ho un sacco di roba vintage che prendo cerco di fare il fit quindi proprio come se fosse invitato c'è una preparazione sì alla fine poi una volta sono andato da pianta ok poi dopo quella volta sono andata da pianta da Paco Rabanne la stessa sera c'era Acne Studios e Acne aveva il setup della foresta e quindi ero perfetto infatti mi ha fatto un sacco di foto lì però da Paco Rabanne effettivamente era un po' un lighter proprio giallo fluo in mezzo a tutti certo e comunque dicendo le sfilate più belle la Cagna Season 9 secondo me non verrà mai fatta da nessun roba del genere quindi quella è il top dei top poi la seconda mi è piaciuto un sacco Off-White la prima perché era proprio già post-morte di Virgil è vero sì è stata la prima post-morte di Virgil esatto e poi quella era la prima era quella che c'è a tale recreator che girava con la bici no quella è stata Louis Vuitton Louis Vuitton estate quella è incredibile infatti adesso c'è Louis Vuitton Farell a giugno quindi tra qualche settimana il 20 e quella secondo me sarà incredibile però quella è difficile già col fatto che adesso sono mezzo ricercato cioè comunque la mia faccia è conosciuta hai già visto qualcuno che ti ha detto oh ma tu sei quello adesso a Fashion Week mi fermano i ragazzini le persone per dimettere quello che si imbuca da video di Cagne e poi dopo da Givenchy che mi sono imbucato è stato il video più virale che è andato in periodo su Instagram è andato virale e ho un mio amico che lavorava per Givenchy e mi ha detto praticamente che il gruppo PR mi conoscono cioè il gruppo delle persone che sono davanti si si sappiamo chi è e quindi ormai sono conosciuto da certi gruppi di persone non so chi e non mi ha mai detto non puoi fare questo però secondo me se c'è la possibilità che io entri cioè che io entri in uno show mi riconoscano infatti poi adesso vediamo poi alla fine ripeto quello che metto a te cosa ti fanno ti cacciano ti danno una multa cioè poi peggiori dei casi ripeto a volte uno può anche finire finta cioè posso dire se ho fatto finita di imbucarmi sì effettivamente invece conoscevo il mio amico che mi ha dato il pass cioè ci sono modi per saltarci fuori poi è chiaro che a volte come ho detto io non faccio più come facevo l'inizio le prime settimane che facevo i pass false adesso sono cose molto più se non entro buon finirci baci e bracci farò l'altro evento però non è che vado a dire lì pass false perché non voglio anch'io andare in casini cioè alla fine è proprio per divertirsi sì esatto e quindi c'è la gente un po' mi riconosce in Italia non lo so secondo me sono più conosciuto di quanto pensi di essere perché i video vanno certo però poi non sai a chi vanno cioè ma quindi secondo te fare tipo questa transizione cioè farlo anche in Italia è più difficile secondo te secondo me se avessi fatto sono scritte come quella che c'è vecchio lì in Francia è uguale ma in Italia l'hanno già fatto poi corse come si chiama l'altro Ale della Giusta che adesso sono youtuber famosissimi l'hanno fatto sia a Parigi che a Milano ok e poi dopo loro hanno fatto solo un evento adesso sono invitati per dire perché sono famosi lui Ale della Giusta è nato da Deezer da Philippe Lane che si imbucava prima si imbucava tipo fai il ruolo e ti chiamano cioè questo è incredibile c'è il paradosso e quindi Milano vediamo poi adesso la fortuna è che comunque ho iniziato ad avere un livello di conoscenza in cui molta gente che la conosco è nel business quindi posso chiedere gli favori peggior dei casi posso sempre chiedere c'hai un passo o qualcosa da potermi dare a volte adesso sono anche invitato per dire quindi adesso magari mi invitano veramente però invitato da giornalista cioè più da content creator che da guest però sì di base l'idea è che cioè non lo farò per tutta la vita è impossibile lo spero anche per me in senso che sono dieci anni hi guys mi sono imbucato mi sono bastone vabbè a parte che c'è un prendo un po' d'acqua vai c'è un content creator famosissimo inglese che ha imbucato suo nonno alla fashion make di Londra ma è quello che è tipo il nonno tutto griffato no quello griffato è un'altra cosa lui proprio ha preso suo nonno un nonno a caso ha fatto magari delle interview per beccare il nonno giusto e l'hanno vestito da fashion week e l'hanno imbucato da london fashion week e lui ha fatto altre cose ma ci sono stati un sacco di persone che hanno fatto imbucate del genere solo che poi magari loro si fermano a un evento o a un video invece io ormai l'ho fatto così tanti che però io ne faccio tanti allo stesso tempo per riuscire ad avere poi il livello di conoscenze che hanno loro cioè loro sono magari già dei youtuber e fanno un video e quindi esplode io sono un pirla devo farne 20-30 di video per riuscire poi magari sia quell'uno esatto che va e alla fine lavori un anno intero ti imbucchi a mille eventi per poi avere l'evento come quello di Kanye che ti spinge tutto il resto e quindi è più una questione di keep hustling e proprio di eventualmente vediamo come va però poi come detto c'è appunto a prima o po' essere invitato proprio ufficialmente però tipo scusa anche ad esempio a Cannes adesso tu comunque da questo hustling che ti imbuchi così comunque a Cannes avvi tipo l'invito a Cannes praticamente adesso sì praticamente NSS che poi mi ha scritto sia Hot Pump che NSS perché da io faccio video in inglese in italiano se avessi fatto in italiano secondo me se lo esposi molto più velocemente perché in italiano chi è che fa sta roba magari c'hai Corsa ma fanno un video e poi dopo loro fanno tutta l'altra roba Kanye West in italiano secondo me sarebbe stato incredibile perché nessuno non l'avrebbe mai vista possibile invece che non sia benvenuta nessuno però comunque in Italia ogni video che facevo su TikTok in italiano dove spiegavo con gli artisti italiani tipo Lazza Chiara Ferragni che li ho ubicati facevano 800.000 views Chiara Ferragni ha fatto 100k quando ho parlato con lei e poi ha fatto 250 il video solo di quello dove spiegavo come mi sono imbucato da Dior e lei è super carina però di base io faccio video in italiano con gli ospiti italiani in inglese ha senso e quindi mi sono perso la domanda se ora lavori con i magazine ah sì è vero quindi praticamente dei video italiani mi ha scritto Outpump NSS per fare poi del content da invitato per il magazine certo e poi la cosa bella di NSS è che loro stanno aprendo un magazine in Francia quindi stanno aprendo una nuova parte NSS Francia e quindi ho la possibilità di rimanere a Parigi che secondo me è la città più internazionale per questo tipo di content e di conseguenza loro mi hanno detto facciamo il content insieme quindi sono andato a Cannes praticamente con loro però poi l'accreditazione loro l'hanno presa cioè non riuscivano a prendere l'ultimo per media quindi dopo ho dovuto essere un giornalista per il magazine quindi c'è stato un po' di magheggio alla fine loro effettivamente ci siamo parlati abbiamo capito quello che potevano fare quello che non potevo fare ma le tue spese però in realtà mi hanno pagato per i video e quindi c'è stata una sponsorizzazione dei video che poi è stato quello che mi hanno pagato è stato l'idea di fare il content con come vivere a Cannes con i soldi che erano 500 euro poi alla fine tra una cosa e l'altra erano di più però di base di 500 euro era l'idea di spendere a Cannes e vivere con i soldi della sponsorizzazione che ha senso perché così non devo spendere anche perché fai del content incredibile però sì la cosa più bella è che sono partito da essere imbucato veramente e poi a i magazine sta roba piace perché i magazine quello che vogliono è il content cioè vogliono l'evento vogliono il personaggio Travis Scott The Weekend Kanye West e quindi se stessi nelle situazioni dove addirittura gente che lavora non ci arriva infatti quello che dico sempre se mi dai un pass a me io vado sulla luna perché io già entro sulla luna senza quindi quando sono lì infatti a Cannes è stato poi quello alla fine avevo il pass vero e proprio del festival che mi hanno dato loro legalmente senza fare dove sei partito aspettare alle 5 il messaggio al pass ma infatti io tuttora a volte penso perché magari a livello economico non c'ho la possibilità di far questo sempre e quindi non c'ho la possibilità di far questo proprio per vivere non posso fare questo e quindi dico però alla fine se ci penso a livello proprio di content ce l'ho fatta sono partito ad essere imbucato ad essere lì invitato comunque a lavorare ad essere pagato per essere lì il prossimo step è quello proprio di essere la star sai che proprio ti fermano poi è chiaro non lo faccio per quello però nella scaletta delle persone che vorrebbero vederti avere successo alla fine è quello ma poi hai fatto un reel con tipo un altro brand tipo ah sì ho fatto una sponsorizzazione si chiama Lefties ok Lefties esatto che è un brand spagnolo e loro ti hanno contattato sì mi hanno contattato attraverso TikTok mi hanno fatto una sponsorizzazione tutti questi pantaloni sono loro loro sono su me un fast fashion brand sono tipo un affiliato di Zara e io odio i fast fashion brand cioè nel senso non sono qualcosa che difficilmente però la cosa bella è che se c'è un compromesso che riesci a avere allo stesso tempo qualcosa che ti interessa e loro infatti mi hanno toccata libera sul video e che solitamente facevano delle interviste proprio ad hoc volevano che te leggevi le lines e tutto quanto io invece ho detto io faccio quello che mi pare voi mi date i vestiti che voglio io mi pagate quello che voglio io quello che voglio io mi hanno pagato no in realtà però mi è andato un budget io faccio video solo a questo budget però comunque ti ha lasciato ma perché hanno visto il personaggio e hanno creduto infatti poi il video è nato relativamente bene cioè gli è piaciuto un sacco poi dopo loro fanno content in spagnolo quindi l'inglese è andato magari non bene come però che hanno altri influencer che hanno 600-700k su TikTok li fanno i video così io sono poco conosciuto però comunque gli piaceva il personaggio l'idea e per quello che ho fatto il video è andato molto bene e poi io ho scelto i vestiti ho scelto quello che devo fare quindi anche se effettivamente il brand è un brand cioè alla fine comunque chi è che non ha una roba di Zara cioè è quasi impossibile non avere roba di fast fashion magari anche le magliette di Off-White possibilmente sono fast fashion perché magari le fanno in canicatine non lo sai e quindi la differenza è che magari loro sono conosciuti ma anche Nike per esempio le Nike le fanno i bambini quindi alla fine è tutto bene o male nel capitalismo però sì mi hanno pagato bene quindi è bello io faccio solo i sponsor se so che sono in linea con quello che sono io infatti la gente che li vede perché altrimenti non sono stupidi se non fai qualcosa che lo fai per venderti è palese infatti secondo me anche adesso non sono così grande perché ho sempre fatto roba che era con me mi sa comunque rimanere coerente sì altrimenti per cosa non è così scontato in realtà beh sì effettivamente è vero ho conosciuto molta gente che su social è tutta altra roba rispetto alla vita reale soltanto per crearsi il personaggio il mio piano è quello di essere più me stesso possibile per poi arrivare effettivamente a essere conosciuto come un personaggio che è divertente ma allo stesso tempo sa vestirsi e allo stesso tempo può intrattenere le persone certo ma invece l'incontro con Chiara Ferragni spiegaci dove era intanto a Dior a Dior Dior mai sono a casa cioè io Dior entro V e a Dior sono entrato io Dior da quando ho iniziato è l'unico show che ho fatto tutte le fashion week e che è il più esclusivo e sono sempre entrato ma non so come neanche io però ho sempre entrato la prima volta è cacciato però perché ero nel backstage senza il braccialetto e il tipo mi fa cosa sei io sono un guest e allora il tipo mi ha portato secondo me vuole portare dai guest io ho paura che mi portasse tipo la polizia non lo so quindi era il primo show che facevo e allora sono andato via da solo dall'uscita cioè proprio mi sono calciato da solo quindi però nel backstage comunque ho visto le modelle la seconda volta la seconda volta non mi ricordo neanche forse ho letto un nome sono entrato con qualcuno non mi ricordo cosa ho fatto però ho suonato il piano quella volta lì e poi la terza volta invece sono entrato proprio con degli altri sì con degli altri c'erano dei lavoratori mi sono infilato in mezzo a loro avevo dei braccialetti io non avevo uno di un altro evento ho fatto così e mi ha fatto entrare e poi dopo ero all'evento ero vestito proprio da Dior mi fa troppo infatti adesso ho questo qua di The Idol che è l'after party di Cannes di The Weeknd questo è un altro after party non toglierlo mai questo qua perché adesso c'è la serie televisiva quindi faccio un po' di flex poi stai in bene con le scarpe e tutto sempre in sintonia però io ho tipo 20 di questi che sono tutti gli show e ogni show c'è un colore diverso quindi bene o male puoi fare un po' di magheggi con i braccialetti anche e Chiara Ferragni l'ho vista l'ho beccato ho detto cavolo c'è Chiara Ferragni però io non è che la seguo non la seguo neanche però mi piace comunque il fatto si è come Orgoglio Italiano esatto è famosa più al mondo cioè è più conosciuta all'estero quasi che in Italia quindi è un personaggio interessante quindi ho detto vado a fargli una chiacchiera ho visto Sanremo perché Sanremo comunque per tutto il trash che c'è tra Blanco e a fine tira se sei in Italia saremo ci saremo una merda qualcosa guardissimo ma perché magari c'è il tuo artista preferito poi io sono tutti gli anni mi riguardo il video di Morgan dove le brutte intenzioni la maleducazione sono anche tutti i gesti perché per me è l'apice della cultura italiana è Morgan che lo amo poi è matto come un cavallo anche lui però cazzo quel video lì per me io con mio fratello che anche lui è contro social però quel video lì sempre rimane nella storia e sappiamo tutta memoria di lui che lascia il palco che poi rimane dietro alcune persone non l'ha visto ma lui rimane dietro alla randa e intanto lo cercano lui lì dietro però cioè quindi sanno già che stanno litigando fanno finta che incredibile io quel video lì lo amo e quindi Sanremo spero che ci sia sempre un Morgan 2.0 quest'anno è stato Blanco che ha fatto il calcio alle rose che poi non ero neanche incazzato alla fine Blanco è così la gente è incazzata ma alla fine lo fa nei video lo fa da tutte le parti e lui mezzo nudo spacca tutto sì ma l'avrei fatto anch'io sinceramente anch'io sono un po' più il personaggio da Blanco perché sei in una situazione così ti diverti lui ti diverti poi è chiaro che su c'è politica di correct e tutto quanto però sta di fatto che Sanremo l'avevo visto avevo visto dei vestiti di Carafferani che ha fatto scalpore per i suoi vestiti il suo discorso però gli ho detto beh alla fine dico di Sanremo abbiamo chiacchierato e poi non sapevo cosa dirle e gli abbiamo parlato dei suoi capelli e tipo io l'ho detto perché aveva si era tante i capelli che era così la caschetta quindi aveva i baby hair aveva i capelli che gli uscivano così e c'è un knack di tiktok che si usi il filo interdentale con la forza non so che caso di legge fisica sia comunque con i capelli se ti tiri il filo interdentale con i capelli questi qua che volano vanno giù si attaccano si esatto esatto legge esostatiche e quindi gli ho detto ma sai che perché avevo visto che aveva questo problema però lei non lo sapeva non so anche perché le abbia detto sinceramente mi sono proprio dato la confidenza ma sai che se hai quel problema lì puoi usare il filo interdentale e lei si sente nei video mi ringrazia mi fa grazie mille sei molto gentile la prossima volta proverò e poi su Instagram da lì in poi tutte le foto non c'ha più i capelli che sono così quindi io cioè secondo me mi ha ascoltato veramente perché da quel momento lì se guardi le sue foto non c'è più questi baby hair che le volano e prima invece c'era sempre quindi secondo me è un minimo Francesco vai in giro con il filo interdentale nella borsa prima delle foto si fa così però lei è stata super gentile super carina non so se sia puri perché deve esserlo però comunque ho avuto una bella interazione anche con lei poi secondo me se mi rivede non so se mi riconosca avevo gli occhiali i capelli i capelli uguali però boh cioè alla fine le vedi una volta sai quante persone le vedono però boh è stato comunque bello parlo troppo no cioè sei perfetto ah perché poi mi sono preparato io da quando ho iniziato a fare sta roba adesso finirò nei podcast c'ho già le menti quindi in italiano non troppo perché li ho fatto sempre in inglese le prove però sai come cani dici mi sono preparato il grammy speech ancora prima di aver vinto io mi sono preparato tutte le interviste ancora prima di doverle fare e quindi no fa ridere però si di base parlo da sola a casa e dico allora Leonardo ma come è stata l'imbucata da Kanye West io da solo per tre ore mi perdo figo tu vuoi chiedere una delle ultime cose interaction preferita con una celebrity a parte Giulia Fox che ormai c'è bellissimo Giulia Fox mi fa you're very handsome poi l'ho ribeccata a canne e mi ha iniziato a parlare in italiano perché è italiana è italiano sì lei parla italiano infatti io la prima volta anche a me me l'hanno detto io non lo sapevo ci siamo beccati da Vivian Westwood le fa sì sì mi ricordo beh cosa fai stasera stasera sono all'after party di questo qua ci possiamo beccare oddio però io mi sono imbucato poi all'evento di The Idol quella sera lì quindi non l'ho beccata però sicuramente lei sa chi sono quindi poi non so cosa può succedere fuori in senso che la porto fuori a cena e mi imbuco sempre però no lei è stata super interaction Kanye ma perché Kanye è stato il top di top di top secondo me non ci arriverò mai ma perché perché è una cosa così piena ricca esatto e poi è proprio amicale amichevole non lo so come si dica scusate l'ignoranza comunque è proprio è una situazione dove sei con lui a parlare quasi come con noi e quindi lì è proprio un'esperienza della vita non è neanche un celebrity diventa quasi un amico come dicevo però proprio celebrity che non mi ha cagato cioè nel senso che poi non ti ricorda Jared Leto che mi ha chiamato Jim Morrison perché gli ho detto sai che i miei tuoi capelli mi piacciono un sacco stavano facendo una foto e lui mi fa oh beh cioè i capelli ricci George Morrison e gli ho detto no gli ho dato uno schiaffo sulla spalla tipo ma vai a cagare e lui proprio mi fa no no George Morrison e io ho il video di lui poi ho tre video di quella foto lì di quella scena lì perché avevo i due ragazzi che mi hanno fatto le foto dalla Easy Season 9 che erano all'evento di Acne Studios da fare delle foto alle celebrità e quindi loro mi hanno fatto i video mentre parlavo con lui e lui super già l'hai letto proprio a me non mi piace magari la musica però è un personaggio è forte lui ha il carisma quello che è bello quando la gente proprio lo vedi entrare e dici minchia sto qua lui è pazzesco poi bello cioè ma come è ragazzo alla fine è un personaggio così e poi la Chiara Ferragni è anche molto 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 carina e un'interaction che non ho registrato era quella con Travis Scott la canna ma è vero che tipo è bassina sì tu sei molto alto io sono molto alto poi avevo anche i tacchi avevo tipo i boots perché è più basso di lui sì effettivamente ma sono bravi a fare le foto io sono andato dal parrucchiere a Parigi questo parrucchiere qua e mi ha detto mica sembri molto più cioè più basso nelle foto e io non so farle perché effettivamente io sembro più basso cioè sono alto un 92 93 e poi dopo invece nelle foto sembro magari non alla loro altezza però Travis Scott effettivamente è più basso ma tutti nell'Hollywood sembrano delle stanghe perché sono prendo le foto giuste non lo so e con lui ho visto presente ho visto sono uscito dal bagno poi questo è incredibile sono uscito dal bagno dal film prima e poi sono rimasto al cinema per il film dopo a Cannes come se fai qua a Modena va a Vittoria dici mi guardo guardando la galassia poi dopo esco c'è Spiderman dopo faccio finta di essere entrato nello stesso biglietto stessa cosa Cannes però e praticamente sono uscito c'era Travis Scott con Utopia e mi capisco cazzo c'è Travis sono andato a salutarlo io gli ho dato un 5 e gli ho detto you know I'm Kanye's friend e lui mi guarda tipo di cazzo me ne frega e giustamente conosco Kanye e tutti i suoi amici quindi cazzo me ne frega se stessi Kanye allora ho detto scusa quando è che esce Utopia lui dice tipo nel suo modo proprio non mi frega un cazzo cioè così e poi abbiamo parlato tipo due secondi gli ho detto che sono un grande fan di qua di là però si vedeva che lui era abituato cioè l'interaction con lui è stata più da fan come con Kanye per esempio è tipo l'interaction media che tutti hanno che puoi avere con il cantante che come in Italia magari becchi Lazza e dici oh ciao Lazza sono un grande fan uguale con lui con Cara Ferragni invece è stato e Kanye e anche Gerard Leto sono situazioni un po' più amica cioè oltre tipo il fan magari anche chiacchia tra vedete di vita esatto che poi alla fine è quello il punto cioè non voglio arrivare a fare del video che van virali per riuscire a fare le views perché devo fare l'interaction con la celebrità voglio che le celebrità mi riconoscono come un personaggio simpatico e poi dopo se fa le views è perché l'interaction come con Julia Fox you're very handsome we can meet up cioè è più proprio una vera interaction che poi infatti molte non hanno anche registrato il Lazza ci ho parlato non l'ho registrato perché ho detto non mi frega niente sinceramente cioè in senso non mi piace la musica italiana non l'ascolto è un po' fake da fare qualcosa però poi con lui ci ho parlato giusto per dirgli ti conosco ti ho visto e non gli ho detto che mi piace la sua musica perché non l'ascolto quindi non potevo dirglielo però gli ho detto ti ho visto a Sanremo e bella la roba di Off-White che è la collaborazione che fai e fine bella no vecchio tanta roba tantissima roba infatti no cioè io sono contento perché comunque noi ci siamo scritti che era novembre tu mi hai detto no io questi progetti queste scene così alla fine cioè è bello quando uno mantiene anche gli obiettivi che si è prefissato sì esatto ok io voglio fare questo voglio arrivare a questo voglio fare l'estate spingere da dove posso arrivare e comunque siamo qui tu che ti invito cioè ora passi da c'è proprio la storia di Crescent che parte dall'imbucato sì vai che c'è l'imbucato ma il mio goal è proprio quello faccio finanza mi invitano perché cioè respect ah grazie davvero respect ma io quello che voglio fare alla fine non è ispirare la gente a imbucarsi ma ispirare comunque anche una o due persone a dire hai un sogno comunque c'è qualcosa che vuoi fare personalmente buttati peggior di caso cosa succede anche perché poi magari io faccio il massimo di quello che puoi legalmente fare io sono proprio sul filo da una parte dall'altra però comunque se ti piace magari fare della musica buttati vai al concerto provi magari a dire oh sono amico di questo per parlare con un producer del backstage cerca di fare qualcosa che poi molta gente infatti che si imbucca che ho conosciuto comunque l'ha fatto lo fanno più perché sono dei designer vogliono imparare di più della moda vogliono imparare avere le conoscenze fare il network io ho quello che il network do ho fatto finanza adesso sì ho degli amici che lavorano nelle grandi marche in finanza che posso chiedere aiuto per un internship per dire però alla fine in questo momento il mio piano è di diventare più una figura di intrattenimento che un economista e quindi però alla fine di base lo faccio più per divertimento perché mi piace se uno ha delle vuole fare una carriera e vuole provarci vuoi giocare a basket buttati all'allenamento del regime di basket e dire guardate io ho questa ispirazione voglio allenarmi ho tutto quello che ho per non so mi alleno con voi gratuitamente faccio solo allenamenti prova a spingere qualcosa per fare il tuo sogno alla fine buttati per i giorni casi cosa succede? ho perso del tempo ma comunque hai un repertorio di informazioni che possono esserti importanti nella vita poi in futuro cioè io personalmente se tra un anno finisco e vado a far finanza o lavorare ho un anno in cui so come funziona l'algoritmo di tiktok so come andare virale perché adesso ho imparato un modo per il video ho studiato so conosco un sacco di gente nel mondo dello spettacolo e al festival di canna ho conosciuto anche persone che lavorano direttamente al festival quindi eventualmente al cinema cioè alla fine le cose che faccio adesso potrei continuare a farle senza video esatto quindi magari lavoro poi dopo dico beh adesso faccio una settimana di vacanza oppure faccio una settimana di fashion week lavoro e faccio la fashion week perché ho le conoscenze può diventare più una cosa come andare al cinema per te poi magari vai al cinema con le celebrità però alla fine è la stessa roba no infatti molto figo vecchio infatti gran motivation cioè su me ti rispetto grazie quindi ti rispettiamo in realtà quindi anche noi siamo in coerenza alla fine ok il following ok fare la puntata bella però alla fine noi comunque invitiamo gente che comunque vediamo quello che fanno e ci piace quello che fanno e vogliamo parlare con loro capire entrare nel loro mondo e dargli il platform più grande possibile comunque portare anche a nostra chi ci segue queste storie che comunque altrimenti uno non conoscerà mai no esatto ma perché poi sui video cioè sono poi i miei video dieci minuti e poi come dicevo anche prima della puntata molto spesso devo tagliare delle parti che magari sono importanti che sono per la backstory però non puoi raccontare ma perché aggiungono magari nulla alla storia cioè scusami aggiungono magari più problemi magari te personalmente che poi alla fine non aggiungono a livello proprio di contenuto il contenuto rimane quello cioè il contenuto rimane che vedi The Weeknd o Travis Scott al concerto in modo magari in cui lo fai che può essere più o meno un hustling o no quello poi anche a volte cambiarlo per evitare certi problemi certo però ma poi di base ringrazio anche voi per comunque essere cioè addirittura l'ho scritto io poi sì tu mi hai scritto sì esatto era così proprio volevo andare a parlare della mia storia ma infatti figo infatti sono contento che sia andata così bene e direi che possiamo chiudere e channel 808 season 4 in svolgimento ci vediamo alla prossima bella ciao ciao bella ragazzi